Il Comune di Santa Maria del Cedro ha dato mandato legale per la difesa nel processo sulla maladepurazione contro la Impec. Il procedimento civile è attualmente pendente presso il Tribunale di Paola e il giudice per le udienze preliminari si è riservato di indicare la data dell'inizio del processo. Il Comune di Santa Maria del Cedro chiede il recupero di somme indebitamente addebitate e il ristoro dei danni, materiali e d'immagine derivanti dalla cattiva gestione dell'impianto di depurazione comunale per un totale di circa 545.000 euro. I fatti risalgono al 2009 quando la Procura della Repubblica di Paola sequestra il depuratore cittadino nell'ambito dell'attività investigativa sulla maladepurazione che fa emergere una non corretta gestione di molti impianti del territorio. Nell'occhio del ciclone finiscono le ditte tra cui la Smeco e appunto la Impec Costruzioni che gestisce il depuratore di Santa Maria del Cedro dal 2003. In questi sei anni, contestano gli inquirenti, avrebbe smaltito fanghi derivanti dalla depurazione in quantità irrisorie. Contemporaneamente però Impec incassava dal Comune un canone annuo di circa 20.000 euro che comprendeva anche una quota per lo smaltimento dei fanghi. Un conteggio effettuato dall'Ufficio Tecnico Comunale ha quantificato in circa 290.000 euro l'indebito arricchimento per la ditta. Inoltre, il non corretto funzionamento del depuratore ha portato all'ente una spesa di oltre 400.000 euro per lavori straordinari, nonostante fosse stato collaudato solo pochi mesi prima dall'arrivo di Impec. Nel gennaio del 2013, la Giunta Comunale ha deliberato favorevolmente per chiedere il ristoro dei danni causati alle casse dell'ente più il risarcimento per i danni di immagine subiti dalla località turistica. L'ipotesi, infatti, è che quei fanghi non smaltiti sono finiti direttamente in mare, creando le famigerate chiazze marroni e le denunce di bagnanti e residenti che hanno dato il là alle indagini. La ditta di contro ha citato in giudizio civile il Comune per somme non pagate a fronte di servizi erogati per un totale di circa 400.000 euro. Nelle ultime settimane, infine, il Tribunale di Paola ha comunicato all'ente che il giudizio è pendente. Ora si attende solo l'inizio del processo.